Amici, se amate questo canale, questo canale ha bisogno di voi. Se ci tieni, sostieni. È l'hashtag che ho creato per spiegarvi quanto è importante il sostegno per chi fa questa attività. Ci sono due modi per diventare sostenitori attivi del canale Enrico Silvestri in TV. Lo puoi fare attraverso un abbonamento insieme a Patreon, dove il tutto ti costa un dollaro al mese. Quindi praticamente mi offrite un caffè al mese e diventate sostenitori attivi. Altrimenti c'è la donazione libera e questo si può fare spontaneamente su Paypal. Questo è l'indirizzo. Come al solito, io vi ringrazio per la vostra enorme generosità. Amici, dobbiamo parlare. Si sta per chiudere un anno, il 2019, ma si sta per chiudere contemporaneamente anche una decade, quella che va appunto dal 2010 fino ad oggi. Qual è stato il miglior disco di questo decennio? Vi chiedo una piccola lista di cinque album da nominare che secondo voi sono stati i migliori in assoluto degli ultimi dieci anni. È un'occasione non soltanto per dire la nostra, ma anche per andarci a riascoltare un po' di cose di questo recentissimo passato, dell'ultimo nostro passato, il nostro passato prossimo. E andare a vedere che cosa c'è stato che ci ha illuminato. Insomma, ci sono stati tanti dischi molto importanti, anche a breve personalmente, non so, da Black Star di David Bowie a tutto quello che ha pubblicato Kendrick Lamar, Lemonade di Beyoncé che è stato un disco rivoluzionario per il genere, tutto quello che hanno fatto di The War on Drugs che è stato straordinario, eccezionale. Insomma, tante cose sono uscite molto belle, gli LCD Sound System. E allora, mettiamoli insieme in questa vostra lista, ovviamente come al solito affollate la sezione commenti e poi per inizio anno io farò un video dove dirò quali sono stati i vostri album preferiti. Direi che è il momento di iniziare, mi raccomando scrivete tutto e vedremo come cambia il giudizio, per esempio rispetto agli altri paesi del mondo, rispetto agli Stati Uniti, rispetto all'Inghilterra e sono convinto che l'Italia abbia un taglio completamente diverso per tutta una serie di ragioni. Mi incuriosisce veramente tanto. Come al solito, se vi è piaciuto questo video mettete un like. Se invece non vi siete ancora iscritti, fatelo in questo momento. Cliccate anche il campanellino perché vi consentirà di ricevere le notifiche e di non perdervi mai nessun video appena pubblicato da questo canale. Per il resto ci ritroviamo al prossimo video.